Tutto corre così velocemente, non c'abbiamo mai il tempo di stare un po' insieme, di parlarci un po'. Sei tu quello che non vuole parlare? Non mi ha raccontato niente il processo. Perché nemmeno ne parlo è meglio sto. Io invece ho tante cose da dirti. Cosa? Quando Anna mi ha detto di essere incinta, ho provato invidia. Voglio essere al posto suo. Ho pensato tutte le volte che ho cercato di dirti che io volevo un figlio. E' quello che mi rispondevi. Che i figli si fanno a vent'anni. E che i padri e i figli ci devono andare in bicicletta assieme. Nuotare assieme. Pietro, tu non hai voluto figli per quello che era successo quella notte? Anche per quello. Tutti questi anni ho vissuto con la paura che si aprisse quella porta e ci fosse un mandato d'arresto per me. Io non lo voglio un figlio con il rischio di lasciarlo senza padre. Non lo voglio, Emanuela. E non ti sei preoccupato che questa cosa la facevi mancare a me? Volevi pagare per quello che hai fatto, ma io che cosa c'entravo? Che cosa ho pagato io? Che cosa ho pagato? Chiesa